Benvenuti a Radio Parco, il notiziario del Parco dei Castelli Romani realizzato in collaborazione con Meta Comunicazione. In redazione Andrea Titti. Le notizie. In osservanza delle misure per il contenimento del coronavirus il Parco dei Castelli Romani adotta il lavoro agile. Con la primavera arrivano al parco rondini, rondoni e balestrucci. Conosciamo l'acetosella, una specie di pianta che cresce nell'area del parco. A marzo iniziano le immigrazioni del variopinto gruccione. Per tutte le info consultate il sito www.parcocastelliromani.it. Dal Parco dei Castelli Romani e da Andrea Titti è tutto. Appuntamento al prossimo notiziario.